Cine prese, attrezzature e volti noti stanno incuriosendo la gente del Norbarese. Si gira in Puglia tra Giovinazzo, Bisceglie e Molfetta, La ragazza dei miei sogni, un film prodotto dalla Draca Production di Corrado Azzolini, opera seconda di Saverio Di Biagio. Il film passionale avvincente, che tratto da un'opera letteraria di Francesco Dimitri, è stato presentato a Giovinazzo. Scegliamo la Puglia perché sicuramente la Puglia, al di là di essere anche la nostra regione, è una delle regioni, secondo me, più avanti nei servizi in Italia e più disponibili ad accogliere produzioni. L'intenzione è di distribuirlo nel mese di novembre 2015, quindi lo monteremo a brevissimo. Abbiamo aperto, proprio nelle scorse settimane, un'altra azienda che si occupa di distribuzione. Questa è una nuova distribuzione, nuovissima, appena nata, è un progetto con Corrado, che partiva già dalla produzione della Draca, questa Draca Distribution. Diciamo che è abbastanza impegnativa. Attualmente siamo l'unica distribuzione pugliese, la prima ed unica distribuzione pugliese. Abbiamo quindi già una serie di titoli. Nel cast volti noti come Remo Girone, Nicola Svaporidis, Primo Reggiani e l'attrice italo-spagnola Miriam Giovanelli. La ragazza dei sogni è la ragazza dei sogni dei ragazzi, cioè è la donna dei loro sogni. In questo caso è la ragazza dei sogni del protagonista. E' anche una storia d'amore questo film, una storia d'amore molto particolare, che non voglio svelare.